Ok ci sono troppe news in questo periodo, allora vi ricordate quel leak cinese che praticamente prevedeva la rimozione dei capi palestra che poi si è rivelato vero? Ecco oggi, nella giornata di oggi perlomeno è uscito un altro screen di CoroCoro che ieri inspiegabilmente non c'era, che rivela il pokemon cetriolo di mare. Se vi ricordate nel video che vi lascio in descrizione tra l'altro nel caso non l'abbiate visto, in cui avevo parlato appunto di questo leak, avevo citato proprio la presenza di questo pokemon e a quanto pare adesso è uscito. Non si sa il nome perché io in giapponese non lo so, allora diciamo che non è proprio bellissimo, però magari una futura evoluzione potrebbe cambiare le carte in tavola. Diciamo che, ecco, non mi entusiasma per nulla, non è bellissimo, però appunto potrebbe migliorare, ditemi un po' cosa ne pensate. E niente, quindi questo leak qua si sta rivelando sempre più vero. Attenzione, non sto parlando del leak, quello del Pokédex dell'altro giorno, che è stato smentito, ops, spoiler del video delle 11 e mezza. Ma sto parlando di quello ancora prima, infatti oggi alle 11 e mezza uscirà un video in cui spiegherò cosa ne sarà del leak per quanto riguarda il Pokédex. Ma comunque, questa roba qua non dovrebbe essere appunto fake, come quella purtroppo, ecco lo dico per evitare discussioni, come quella di Megalugia e Marshadow. Purtroppo, purtroppo, ho preso un abbaglio, lo so, mi sono fatto prendere dall'euforia del momento, perdonatemi. Vabbè, capita anche a me di sbagliare. Questa cosa qua è proveniente direttamente da CoroColo, quindi difficilmente sarà un fake. E se non fosse appunto fake, potrebbe veramente confermare cose che non vorrei mai vedere, tipo, tipo questo. O questo. È. Già. E vabbè, nulla, comunque, ditemi cosa ne pensate di questo Pokémon e del leak cinese. Se in questo momento state sempre più rivalutando questo leak, se state pensando ai prossimi Pokémon che il leak potrebbe aver predetto, io ricordo che un leak potrebbe anche essere non completamente vero, ma contenere delle informazioni false, anzi, di solito, è così. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video! Ciao!